Benvenuti ad Incontro Con, benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento che vede protagonista quest'oggi, un autore ormai conosciuto perché da molti anni le sue pubblicazioni trovano ampio riscontro nelle librerie non solo della nostra provincia, è Fulcio Bortot, benvenuto nei nostri studi, Fulcio, ci lega peraltro un'amicizia di lungo tempo e quindi mi risulta anche facile entrare in relazione e comunicazione con Fulcio. L'elenco delle sue pubblicazioni è importante, ci sono romanzi, racconti, storie di un tempo, ecco forse questo è l'elemento costante, non in quanto un nostalgico, dimmi poi se erro caro Fulcio, un nostalgico piccolo mondo antico, ma il farsi memoria di attività, relazioni, vita di ciò che era in queste terre sino a pochi decenni fa. Eppure a leggere pare davvero sia trascorsa un'era. L'accelerazione, data in primis dalle modalità comunicative, ha distorto il rapporto dell'uomo con l'ambiente che lo circonda e negli umani con sessi. Sempre è accaduto nella storia che il cambiamento passasse attraverso nuove modalità comunicative. Ma oggi l'avvento del net, tutto questo in qualche modo prima dell'avvento del net, tutto questo in qualche modo rispettava alcune tempistiche di adattamento. Oggi no. E allora? E allora Fulcio Bortot recupera con un lavoro di grande perizia, portata, proverbi, modi di dire, soprannomi raccolti lungo il piave o forse la piave, come a dir si voglia. Il titolo è accattivante, molto simpatico, perché peraltro è una modalità espressiva ancora oggi in uso, che è pedo taccón del bus. Fulcio, pedo taccón del bus. Pedo il taccón del bus, sì. A volte quando cerchiamo di rimediare ad un errore, aumentiamo questo errore. Quindi la toppa che si mette fa più danni del buco stesso, quindi conveniva lasciare il buco, invece di cercare di rimediare peggiorando. Mi pare che sia una consuetudine ad oggi, che viene ripercorsa da molti e in molti ambiti diversi. Lo vediamo anche nell'aspetto politico, direbbe che uno scenario politico molto spesso accade, no? Sì, sì, sarebbe opportuno, fatto il buco, lasciarlo così, chiedere Venia e dire cercherò di far meglio la prossima volta. Che cos'è tutto questo tuo peregrinare nella memoria? Che un po' è la cifra della tua vita. Ma probabilmente, come per tutti, ma per i più spudorati come il sottoscritto, raccontare il passato, rivivere il passato e quasi obbligare chi mi sta intorno a fare con me questo viaggio, a ritroso, probabilmente sta a significare la ricerca di affetti perduti, la ricerca di radici, la ricerca di un motore o di un'energia nuova per poter progredire, per poter andare avanti. Quindi senza le basi, senza l'hardware consolidato nei secoli, ecco gli insegnamenti di questi proverbi e modi di dire. Ecco, senza questa base difficilmente si comincia ad annaspare, si arranca e invece con una base solida, fatta dai nostri avi, diventa in qualche modo più rassicurante. Ecco perché io ho sempre progettato il futuro, sì, ma utilizzando ciò che era del passato. In qualche modo rispetti anche nella semantica la parola futuro, la cui genesi, anzi la cui radice, la radice della parola futuro è fu. E quindi in qualche modo nel futuro c'è ciò che siamo stati, no? E tu vai a rendere merito anche attraverso espressioni che appaiono di modalità assolutamente volgare. Meglio, attenzione, nell'accezione che diamo di volgare, di comune, che è ciò che è appunto nel volgo e nella comunicazione così come avveniva un tempo. Tu hai insegnato per 40 anni, oltre, ci tieni a sottolineare oltre, 40 anni nelle scuole. Questo ti ha tenuto in costante collegamento con le giovani generazioni, una finestra privilegiata. Come hai visto questi cambiamenti? Li ho avuti sott'occhio, ma in maniera veramente incisiva, perché essere a contatto con i ragazzi porta conseguentemente il contatto con i genitori, il rapporto con i genitori e non solo i genitori, anche i genitori dei genitori, cioè i nonni. E quindi tre generazioni che in qualche modo dialogano con chi fa l'educatore, più che insegnante, amo dire che ho fatto l'educatore. E vedere il cambiamento, non solo ovviamente in questi valori, in questo modo educativo, la famiglia, ma anche nel linguaggio. 50 anni fa, metà bambini parlavano correttamente il loro vernacolo, il loro dialetto locale, che si parlava in famiglia. Negli ultimi anni, quando mi scappava qualche termine dialettale, o mi scappava o lo usavo apposta per provocare, lo sguardo era smarrito del bambino, perché dice, ma come parla sto professore qui? Cioè, in poche parole, quel vernacolo familiare che rappresentava gli affetti familiari di un tempo era praticamente scomparso. Ma tu che sei un cultore della parola e usi in modo assolutamente acconcio la lingua italiana, di cui sei innamorato, perché questo sguardo così attento al vernacolo? Non diciamo dialetto al vernacolo proprio, in questi termini. Allora, diciamo che la lingua di comunicazione nazionale, e adesso internazionale ovviamente, quella anglosassone, ma quella nazionale, ovviamente l'italiano e l'italiano non si tocca. Però è la lingua della comunicazione dei fatti, la lingua della cultura, non è la lingua degli affetti, la lingua della famiglia. La lingua della famiglia, degli affetti e delle relazioni intime è il vernacolo, che poi, se il vernacolo si espande, diventa dialetto. Poi, come si usa dire, se il dialetto fa carriera, se il dialetto è sostenuto da un esercito, dalla marina e anche dall'aviazione, diventa lingua. Però perde la sua caratteristica, ed è necessario che la perda, la sua caratteristica di affetto familiare. Ecco perché il vernacolo, la scomparsa del vernacolo, mi crea un certo dolore, diciamo così. Senti, come si compone questo libro? Perché quanti sono in tutti i modi di dire, proverbi, soprannomi, quanti sono in tutto qui? Allora, io sono 1332, con qualche ripetizione fatta ad hoc, però. C'è qualche proverbio che si ripete, perché li ho raccolti, la piccola parte, perché 7-800 li avevo già, dalla mia infanzia in poi. Gli altri li ho raccolti lungo la Valle del Piave, partendo da Sappada, arrivando fino a Eraclea, alle Foci. E quindi questo gran numero di modi di dire, di dialetti, di espressioni, di saggezza, comprendono non solo Belluno, anzi, si verifica, da questo studio che ho fatto, che il concetto fondamentale di ogni espressione proverbiale è quasi identica. Che sia il proverbio nato a Sappada, che sia il proverbio nato a San Donà di Piave, il significato è il medesimo, cambia solo il modo di esprimerlo, il vernacolo. Quindi è, diciamo, il cuore di una cultura e di una saggezza che si ripresenta in qualche modo? Certamente, ed era tipica, ed è, ora non più, ma era tipica, in ogni parte del mondo, lungo i corsi d'acqua. Il corso d'acqua era quello che univa i popoli, perché le strade non erano strade a quei tempi, e il mezzo, il vettore, l'unica strada era via acqua, quindi i contatti avvenivano in questo modo, prevalentemente. Senti, sono 1332? 1332. 1332. Ora, magari due o tre lì, diciamo, anche in conclusione, però per capire che cosa sia questo libro, che cosa sia questa raccolta, mi puoi proporre in un minuto e mezzo quella scenetta di cui mi dicevi, esplicativa effettivamente del senso di questo pedo-tacon del bus? Ci provo, è una scenetta dove c'è, i protagonisti sono il bambino, il padre, il nonno e il bisnoglio. Il bambino sta giocando in cortile tra le pozzanghere, interviene il padre e lo richiama. «E allora, hai smesso di giocare, di inzaccherarti e di sciupare tempo in vano?» Il suo tono è dirato, è ostile. Il bambino nemmeno sente queste parole e continua a giocare. Interviene il nonno con il suo dialetto, con il suo vernacolo. «E allora, ha tu finito edugare, di infangarti e di perdere tempo per niente?» Il tono è un po' più umano. Il bambino sembra aver udito, si ferma un attimo, guarda il nonno, ma poi riprende il suo gioco. Interviene il vecchio, il bisnonno, con la sua calma. Il tono è pacato, comprensivo e affettuoso, quasi accondiscendente. Il bambino interrompe il gioco, osserva il bisnonno, sorride e obbedisce volentieri. Ecco, in un secolo è cambiato il linguaggio, ma sono cambiati purtroppo anche i rapporti nell'ambito familiare. Allora, questo è esplicativo di quello che potrete leggere. Purtroppo vedo che il tempo è corso tanto, troppo veloce, come sempre. E dunque dobbiamo chiudere qui questo nostro incontro con Fulcio Bortot. Per i tipi De Bastiani, editore, Peno il tacón del bus, sono proverbi, modi di dire, soprannomi raccolti lungo il fiume, trascritti in vernacolo bellunese. Potrebbe essere una buona idea anche per il prossimo Natale, nelle tradizioni. Grazie a Fulcio Bortot, che prossimamente sarà il protagonista di una serie, già coinvolto in una serie televisiva, che andremo a produrre proprio in tema di riscoperta del vernacolo. Grazie a Fulcio Bortot, autore. Grazie a voi per averci seguito. Vi auguriamo un lieto proseguimento di visione ed ascolto dei nostri programmi.